E' un telecomando, ti spazzai bene quel top, 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 top Fino a chi c'è su YouTube, è tutti, tutti Oh guys! Che sta succedendo? Un tipo mi ha scritto saltute Dopo 20 minuti che non leggo un messaggio in italiano Nella Tuli No, tra sei ma qui nella Tuli Parte come dei nella Tuli Che strano Gli hanno rovinato la chat Questo sono io tra l'altro, la mia voce Ragazzi, non importa degli abbonamenti Continuiamo la live, divertiamoci Che già ne abbiamo tanti abbonamenti Va bene così, grazie Siamo tornati a 3000 Che eravamo scesi a... Fica, 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 fica Ma qual è il problema degli abbonamenti? Voglio sapere A posto, a posto così, va bene, grazie Per stasera, grazie Dai, facciamo una... Lo chiamo ora Mario Per tirarlo su Dai, diteli che lo sto chiamando anche Vorrei giocare a Roblox Oh, ho, 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 yeah Mario, ti sto chiamando, è importante Mario, ti sto chiamando, è importante Polybeatdown è una merda Ti sto chiamando su Discord, è importante, coglione Pronto Ehi là, Marione, che succede? Che succede? Mario Ehi, è successo qualcosa nella tua chat Sì, non riesco a capire più un cazzo Per chi è King? Che è successo? Sono 30 minuti 30? Sono tantini? Non funziona più niente qua Avevo fatto un sub goal come si deve Hanno voluto un sub goal che non voleva dire nulla Ho scritto sbrodolo Hanno cominciato a donare Quando non donavano per le cose normali E adesso, finché non fanno sbrodolo 2 Continuano a fare con il pollicione E metti sbrodolo 2, scusami No, no, l'ho messo Sbrodolo 24 ore è sbrodolo 2 Ah, ok Metti la camma prima che ti spacchi il culo seriamente Cosa? No, dico, metti la camma, dicevo Ok, scusami Sono in un momento di disumanizzazione Aspetta un attimo Ma dove l'hai pescata questa parola? No, a parte gli scherzi Ho preso una parola a Casos Ma smettila No, no, ti giuro su Dio Dai, accendi la telecamera Mi sto incazzando Grazie Non c'è bisogno che ti arrabbi Sono... Ma scusa, dobbiamo fare le nostre cose adesso? Eh sì, è l'orario 22 e 30 come al solito Che cazzo dici? Alle 23 che facciamo le cose noi Dario? Come seriamente? Ma non sei tu quello bravo a fare... A fare... A dire... A dire... A dire ste cose Guarda là Sto pensando, seriamente? No, no, no Se sembrate tutti rincoglioniti Sembra che ho a che fare con dei cazzo di robot da mezz'ora Grazie Giulione Grazie Gabo Grazie Gabriele Grazie Pippo Milpi Ulisse Bro, Jack, Teo Il FedEx Sai, ciao Lì, Edo, Parabba Oh, c'è Parabone Grazie a Metocchi Claudinone Quello, zio Lord Ragazzi, è arrivato Dario Dai, torniamo... Torniamo normal Normal Io ce l'ho profumato Commentale Te lo ricordi? Bro, no Non me lo ricordo Non te lo ricordi Che ci scambiamo di 10 anni Cosa vuol dire Che ci scambiamo di 10 anni? Cazzo È che magari No, 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 no Di età, di età Io c'ho 26 anni E tu ne hai Non 10 in realtà Ne hai quanti? 31 tu? Uno Quanti anni c'hai? Tre Grazie a tutti per gli abbonamenti regalati Dopo che sto con Dario Ringrazio tutti No, ringrazio pure ora Non ti fare problemi Sentiti libero Ci sono tantissimi Dario, dai Parliamo noi Basta ragazzi Dai Ok Va bene Grazie Grazie ragazzi Grazie Dai Probabilmente hanno capito che sto male di salute E quindi volevano farmi fare live Senza Bro mi sono svegliato che ero Annichilito dal muco che avevo dentro la gola Ti si è preso un po' di influenza quindi Eh forse sì Sono anche preoccupato perché domani dovremmo andare alla Eh no io Non ti ammalare proprio quando ci dobbiamo vedere domani Eh che domani Sono a Milano Infatti 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 adesso penso che dopo di te annullo one punch me ne stacco prima perché non mi sento proprio tanto bene E poi sicuramente questo atteggiamento dei ragazzi non mi sta aiutando perché è come se fossi Non è che forse andare a letto alle 7 e svegliarsi alle 4 magari possa anche un po' avere influito sulla tua situazione un po' traballante No 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 penso di essermi raffreddato perché ogni volta che arriva la primavera io sto male E quindi Ah ma il cambio di stagione allora Sì sì io soffro tanto il cambio di stagione Dario perché hai presente quel momento Quel momento dove non c'è né freddo né caldo e quindi non sai come vestirti e ti arriva il freddo Dario Per favore Non c'ho nessun altro ecco grazie E tu invece che hai parlato di films Di la verità Fred o Barney Chi cazzo è Fred Vabbè dai qui veramente siamo alla follia ok che ci scambiamo I Flintstones Sì è grazie Sultana Preferisco Fred Barney non mi è mai piaciuto più di tanto Anche da piccolo pensavo che fosse disegnato per far ridere e quando le cose sono forzate non mi piacciono Ok Sì Posso farti una domanda io di questo A voglia A voglia A voglia ok perfetto Preferisci Johan il cattivo di Monster o l'amico il cattivo di 20th century boys È una bella domanda facciamo una bella cosa Mario però io dico Oggi Improvvisiamo un nuovo format Se ti va L'ho studiato apposta per te Oggi improvvisiamo un nuovo format Non che non ci prepariamo mai un cazzo Quindi ogni puntata esce veramente simpatica perché naturale Spontanea Improvvisiamo oggi un nuovo format Te lo ricordi in linea con Mario episodio 1 e basta Bellissimo Puoi rifarlo? Chiamo subito qualcuno se vuoi No 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 Region Time te lo ricordi Ah ho una notizia da darti Te lo ricordi Osas il ragazzo che ha detto prima di tutto Io sono ateo Eh ieri non ha mangiato con noi a raduno perché aveva il ramadan Però non è musulmano E sai come capisce quando c'è il ramadan e quando non c'è il ramadan? Con l'app Muslim Pro Ma Ha omesso che ha dentro il telefono Muslim Pro perché fa comunque il ramadan nonostante non sia musulmano e da noi ha detto soltanto che è ateo Ma perché secondo te? E poi c'è il telefono Perché ha fatto te? Ha fatto questo? Ha fatto lì? Parla come una persona normale perché non è realmente musulmano ma a quanto pare gli piace Che cazzo di applauso è questo? Oggi sono randomico veramente tanto Ok a random Allora oggi facciamo questo Bello Oggi facciamo Te la condivido per te Ora poi faccio vedere anche ai gentili spettatori E ti prendo Che è sta roba? S I love you Non ti preoccupare adesso lo vediamo insieme ai nostri gentili spettatori Che cazzo sono quelli? Questo No niente questo è Adesso ti faccio vedere un attimo Sto guardando non ne conosco metà di quei personaggi Dario Fallo con qualche ragazzo più nerd questa cosa Non No 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 Aspetta Posso chiedere? Dai chiamiamo luce luna per farci aiutare in questa tier lì No no è una battuta Cambiamo Cambiamo roba veramente Chi è la bestia Bowser? Cosa hanno in comune questi personaggi? Quello è Bergamo di Dragon Ball Super? No Quello è il cerbiatto di Beastars? Ah ho capito Sono i furri I furri maschi Giusto? Esatto Sono i furri Bro Dai Togli Aspetta Togli No no non tolgo Non tolgo Perché dovrei togliere scusami? Perché la gente si aspetta ok che non è Talent Scout Però manco la tier list dei furri No questo è il nuovo format È Valutiamo bene Si chiama Ma che cosa? Fox di Smash Bros? Si chiama Valutiamo bene Questo format Eh ma a me non mi interessa un cazzo di valutare Vorrei fare delle cose su cui ho competenza Non conosco nessuno di quei personaggi Come li valuto io? Cioè se vuoi parlare di Ti si è frizzata la faccia con questa risata malata bro Se vuoi fare delle cose tipo se vuoi parlare di Disney parli con Enrico Se vuoi parlare di Dragon Ball chiami Caverna di Platone Allora 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 Lui Non c'entro un cazzo Lui Lui come Lui come ti sembra come personaggio? Ah manco introduciamo Lui come Allora no ragazzi Benvenuti a Valutiamo Bene Valutiamo Bene che cos'è Bene è un nuovo format Di me e Mario Non c'è non con lui È nuovo Aspetta è un nuovo format di me e Mario Dove noi decidiamo come valutare delle cose E voi dovete ascoltarci e zitti Perché noi la sappiamo più lunga della vostra No non ne so un cazzo Non ne so un cazzo Forse nemmeno tu conosci tutti i personaggi all'interno No no conosco tutto amico mio Tutto tutto No perché magari c'è qualcuno che è fan di quella roba E vorrebbe trattata meglio la materia Ah il cazzo me ne frega Ora Manuxo va bene Ma con gli amanti dei furri va a fanculo Allora Vabbè Manuxo comunque l'abbiamo nominato Seppur in maniera gentile No sempre Ora sempre gentile Sempre Ok ok A parte Manuxo e i fan dei furri Possiamo evitare di fare questa cosa Magari mettiamo su Real Power Allora ragazzi Come lo va Un bel fisico Un bel fisico Non lo vedo nemmeno Non lo vedo Te lo sto streamando Te lo sto streamando Sì ma Ma è pure sgranato Non lo vedo Aspetta ma è largo Ma è largo Ok Così lo dovresti vedere Adesso si che vedo bene bro Hai migliorato di qualche millimetro Don't know them Allora Ok don't know Oh Guarda chi c'è Mafalda Mafalda No come si chiama lui Lui è il re È il re di Undertale Sei sicuro? Sì Asgard No Asgard è dove vive Thor Asgore si chiama Asgore Lui è Asgore Sei sicuro? Allora Asgore Grande carisma Pessimo padre Facciamo F Er No Ma non ho letto nemmeno gli altri Vabbè vai mi fido Quello là è coso? Quello è il fratello Va Beh non si può Questo è spoiler eh Questo è spoiler Questo però c'è Questo c'è Facciamo M-A-B Dai M-A-B Certo lo tromberesti lui quindi Ma perché la tier list è io che mi trombo queste cose? Eh certo Vedrai No no Dario no Io non Forse forse te lo tromberesti No 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 Non mi tromberai nulla di queste robe che c'è Che ci sono Non mi tromberai nulla di queste cose Oddio lui te lo ricordi? È quella della serie animata più divertente che c'è? Non mi trombo un essere del genere No 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 Burning hell quindi Burning hell Sì Burning hell Oh la bestia tu colpi gli devi dare No Ma a parte che in caso me li faccio dare dalla bestia due colpi You're cute You're cute Che dici? Ma cosa stiamo diventando? Va bene Sì You're cute Vai vai al prossimo Dai facciamoli veloce Così mamma mia quanti sono Ma chi cazzo No 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 bro No no bro Non avevo visto che erano così tanti Dario non ci possiamo loccare così Facciamo Facciamo un'ora e mezza Due ore di roba inutile Dai Andiamo Facciamo un'altra cosa Chiamiamo Chiamiamo un Coglione No No scusa Scusate Allora 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 Paperino Paperino No vabbè Ma non Come ci piacciono Design Come ci piacciono a noi Capito? Va bene Don't Don't care No Se ci piace come design Paperino I love you S? Stiamo parlando di simpatia estetica O di trombabilità No 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 Simpatia estetica Mario Ok Ah Mario Ti vuole in prova Adesso ho sbagliato pure L'hai detto prima Paperino I love you Ma un My Little Pony Random c'è qua Che dici? Burning Hell Non mi piacciono queste cose Cosa vuol dire queste cose? Mica è droga? No perché Marco ha fatto un video Dove parlava di persone Che se li tromberebbero Veramente volentieri E sono Ci sono rimasto male Va bene Allora Oh Il protagonista di Black's Head Ma veramente? Sì il fumetto Questo You make me happy Dai Topperia Topperia come design Ok Va bene Bowser Bowser Sì qui devi essere serio Non mi fai nervosire Non ti voglio fare Nervosire Si parla sempre Di estetica No? Ehi È un ruttino Dario Ne fai molti di peggio Tu Facciamo You make me happy Che è sto silenzio? Eh non lo so eh Non lo so Vuoi fare I love you Capiamo insieme Capiamo insieme Allora parla cazzo Sennò come capiamo Aspetta di trattarmi male Però scusami Non ti sto trattando male Non fare la vittima inutilmente Bowser ti piace Perché è tondeggiante Picassiano Vedi te Come la prima generazione Dei pokemon Vedi te Vedi te Abbiamo detto Capiamo insieme Vedi te È il contrario Di capiamo insieme Ah ok Ragazzi Ma state ancora A spolliciare Voi? Io mi scorderò Questa giornata domani Bowser Make me happy Ti va bene Sì 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 Assolutamente Oh che succede? Che succede qua ragazzi? Pronto? Oh Mario che succede? Che succede Dario? Hai chiamato Cinque persone Da quello che vedo No Io non ho fatto mica niente eh Vabbè comunque Questo cagnolino Dove è finita La top tier dei furri? Arriva arriva Questo cagnolino Dove lo metteresti? Questo qui Che con l'aureola Carino lui Chi è? No no bro Penso sia una pessima idea Quella che stai Ciao 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 Benzebu Benzebu Ma tu sei il ragazzo Che è della festa d'addio? Mi sa proprio di no Stai un po' confondendo Eh però un'altra cosa Ero con Dario In Toscana Io non sono stato in Toscana Da un paio d'anni Ero io in Toscana Adesso bestemmio la madonna Ci siamo incontrati su discord Ieri accanto a Dario Ah sì sì Certo E vabbè scusami Sono nervoso Ma non per te Per lui Per Dario Dario Parlateci Ho da fare una cosa Arrivo Vabbè sì Comunque dicevi sì Ci siamo sentiti Poi un mese Due mesetti fa Più o meno Stavamo infatti suoi Non so Sono stati in live Che non stavo seguendo Sì Ah Ciao No Ciao ai ragazzi Dici Ciao a tutti No stavo Facendo delle robe Però vi Faccio compagnia volentieri E cosa Aspetta Sto risolvendo È quasi finito Mario Dario sì Cerca di risolvere Al più Quella bottiglia E' acqua E' acqua No No certo Cosa stai facendo Belze No Prima In realtà Stavo facendo vedere Degli artwork Di Yu-Gi-Oh D'una D'una persona Prima Come mai Questa pausa Per dire persona Sembra che tu sia visibilmente Imbarazzato Era una ragazza Sì Sì Ma non si preoccupare La tua La tua La tua fidanzata Sì Va bene Comunque Dicevo Sto facendo vedere Degli artwork Di Yu-Gi-Oh Sto facendo vedere L'art Che della Potomiglia Che t'assomiglia Se mi fai vedere Uno di quei Mostri Yojama Vengo a prenderti Belze No No Assolutamente Ce l'ho qua dietro Aspetta Diciamo che Ce l'ho qui Dario Non sono Yojama Sono più È l'anfora Della vidità La famosissima anfora Non ci assomigliamo per ne Ma chi cazzo sono Questi No vabbè Per il nome Più che altro Salta greppo Lollo lacustre Tonno Dario Ciao Tonno Ma che cazzo è Metti cam Dai al volo Sei Sei in linea con Mario Benvenuto Ciao Ciao Tonno Ascolta Non so se sai come funziona Il format in linea con Mario Ah È nuovo È nuovo È niente Sì 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 Ma che è nuovo Ragazzi In linea con Mario È il contrario Delle cose che si fanno Di solito con Mario Adesso sono un grande Non sono quello Da pensare Capito È così che funziona Allora Tonno In linea con Mario È molto prezioso in realtà Anche per la tua situazione L'ho già spiegato Perché praticamente Mario che è un grande Esatto Ti spiega delle cose Su cui magari hai dei dubbi Di merda Che è già pronto Quindi se te vuoi fare Una domanda a Mario Mario ti chiarisce Ogni dubbio Fa parte È un maestro In questo caso E ti risponde come si deve Vai Tocca a te Tonno Qual è la domanda Che vuoi fare al maestro Mario Allora Non ciò che è una domanda Però Vabbè Fai una domanda O ti spacco il culo Calcola A te e tutta la tua famiglia Non c'è bisogno Di minacciare L'intera famiglia di Tonno Tonno Spara una domanda Così ti liberi in fretta Cioè vai Vai Mario Ascoltami Eh vai Simone Panetti Junior Come posso fare A trovare La felicità Bellissima domanda Cazzo Vai vai Scontata del Del mondo No 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 Perché hai fatto così Non ho capito No mi stavo grattando Ah ti gratti così Ok Si gratti così al massimo Eh no la te Al di là Al di là del fatto Al di là del fatto Grazie Dario È sempre una festiva idea Invitare Belzebob Se ci pensi Eh Tonno Se posso risponderti Muto Vai Aspetta Tonno La felicità È un concetto Del cazzo Non è È un mito Occidentale È una cosa Effimera Che non serve a niente Ti direi Piuttosto che Di puntare Sulla tua serenità No è come si ottiene però La serenità Mario Così stai a paraculare È cambiato la domanda Praticamente È così Stai a fare furbo È così Stai a buttarti fuori È perché Ma chi è questo Questo nuovo Questo nuovo Spicco Di Di trattare il maestro Di solito Non mi succhiate il cazzo E basta Quando rispondo È cambiato il format Vai Comunque vai La serenità Con le cose Che ti piacciono Tonno Non mi piace Sto tono Che Non ce l'ho con te Sembro arrabbiato Vabbè Vabbè Penso di aver capito Vai Ha cambiato subito Idea Ti piace O non ti piace La risposta Tonno La serenità Sì Vabbè Le cose che mi piacciono Vabbè Sì È tipo Che ne so Che ti piace Eh Questa è una bella Era bella domanda Grazie È un esempio Dario Mi vorrei giocare A basket Ok Ci sono dei campi Di basket Vicino Alla città Dove vivi No Qual è il campo Di basket Più vicino Del posto In cui vivi Milano 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 Sta un po' Sta fuori città No tonno Sto perdendo La pazienza Bravo Dario Ma porca troia Ma che cazzo Hanno tutti Ma veramente 20 secondi Per rispondere Qual è il campo Di basket Più vicino A casa tua Mario Ma vi date Una svegliata Da cazzo Ho capito Mario Però Anche te Abbi pazienza Questo Dario È un Uno scheletro Di risposta Ma non vuol dire niente Anche io Abbi pazienza In cosa Nella strada Sei tu Che l'hai buttato fuori A calci in culo Quando non ti è piaciuto più Mario Cos'è che sta cambiando Di più Nella Momento intimo Cos'è che sta cambiando Di più Non ho voglia Di far momenti intimi Su Twitch Dario Se mi vuoi chiedere Un momento intimo Mi chiami al telefono Come fai di solito Sei benissimo Che sono sempre Che è sto sguardo Da Francesco Sole Bro Momento intimo Ti ho detto Devi stare tranquillo È un momento intimo Tra di noi Devi rilassarti Mario Veramente Pensa Respira con me Benvenuti ragazzi In Oriente Lo capiamo davvero Oggi Impariamo A meditare Non ne so un cazzo io Di meditazione Di oriente Non so niente Non so niente Proprio per questo Siamo i migliori E a saperlo Rilassati Mario Innanzitutto Ascolta Tipo Ocrate Metti questa musica Per favore Intanto ci vuole Brucata Postate una simpatica Immagine Eccola qua Ci saluta Metti questa musica Metti bene Ecco qua Ho messo Metti bene La senti musica Hai staccato lo streaming Ecco qua Senti che bello Rilassati Allora ragazzi Iniziamo con Un esercizio Iniziamo con Un esercizio Di respirazione Sei pronto Mario Li sei testi Esercizi Certo Certo Me l'hanno insegnato In palestra Allora Ascolta Dove te l'hanno insegnato In palestra Esercizi orientali Di meditazione C'è un po' di tosse Vai Carico Invece stavi ridendo Fissa Fissa un punto Fissa un punto Immagina un colore Immagina un colore Svuota la testa Svuotala Come faccio? Svuota Svuotala Svuotala Rilassa Non pensare che Siano live su Twitch Ecco Pensa A quello che c'è Dentro il cranio Del rosso più bello di Twitch Pensa Esatto Il vuoto Allora guarda bene Perfetto Adesso sei vuoto Perfetto Ci sei riuscito Fissa un colore Decido io Zitto 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 Perché se no Poi ti si riempie di nuovo La testa Adesso respira No questa è rabbia Sento rabbia Sento rabbia Perché mi sto innervosendo No Non devi Devi svuotare Guarda bello il Trentino Alto Adige Svuota bene Svuota Non è il Trentino Vai E adesso Svuota Ok adesso Tieni le mani così Così le devi tenere Fidati Fidati Tieni le mani così Bravo No Dita unite Anche voi ragazzi a casa Unite Unite le dita Appiccicate Bravo Allora Respira E poi piega E poi piega così Piega Piega bene Piega Piega così Piega Ma chi cazzo è quello Nella tua maglietta Piega Piega Così Poi Sì Ma butti fuori Blocca Blocca così Blocca Adesso Che cazzo blocca questa roba Fai finta di bloccare Bloccare tutti i tuoi pensieri negativi Che li devi lasciare all'esterno Buttandoli al di fuori No no è vero È vero Buttandoli al di fuori Buttali bene Ripeti Buttali bene Ok Adesso indica 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 Il tuo Col bravo Vai così Proprio davanti a te Indica Ah ok Indica un nemico che non c'è Fissa un punto Indica il tuo nemico Le persone che ti fanno male Bravissio Visualizzali Le persone che ti fanno male Le persone che Non si fidano di te Che non capiscono quanto soffri Adesso Vai Altro dito Chiudi gli occhi però Devi tenere chiudi gli occhi Stai gli occhi chiusi Indicali con due dita Con due dita No 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 Con due dita Di una sola mano Unisci le dita Unisci Ah sì È importante unire A quanto pare Sì È molto Perché Vettorializzi Ok Vai a fare in culo Poi Vai col terzo dito Che è il tuo terzo nemico Ok Perfetto Bravissimo Mario Adesso Alza pure il quarto dito Quattro nemici Davanti a te No Il mignolo Oh sì Ah il mignolo Il mignolo Poi dai Butta fuori Butta fuori tutto Ma come butta fuori tutto Abbassa Abbassa la mano Abbassa Non piangere Non piangere Abbassa la mano È normale essere emozionati Perché finalmente Stai decomprimendo È normale È normale È normale È normale che tu decomprima Non piangere Tutta pure Ok Adesso Una preghiera Shaolin Devi Sì Adesso devi Vettorializzare bene Devi riunire Qui nel mezzo al petto Tutti i tuoi pensieri negativi Il fatto che ti sono scadute le sub Eccetera Devi cercare di vettorializzare Ah ho capito Adesso sono io Ok No 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 A tutti scadono le sub A tutti scadono Ok Anzi Dobbiamo ripetercelo A tutti scadono le sub A tutti scadono le sub Non dobbiamo Prendercela Non dobbiamo prendercela Noi siamo migliori Di un numero Noi siamo migliori Di un numero Bene Allora vettorializza così Bene Vai E poi adesso Ci vuole Un grido Un grido di battaglia Mentre allarchi Aaaaaa Vado io Vai Dario Stai andando benissimo Mario Siamo all'ultimo esercizio Quello più difficile Ok Fai una C Una C davanti a te Una C È che esatto Fai vedere al tuo pubblico Che ci sta assistendo In questo processo Una bella C Una C Che cosa rappresenta per te Questa lettera Mario Una lettera Normalissima Nient'altro che una C Pensa alle prime parole Che ti vengono in mente Con la C Cazzo Clelia Colibri Cilindro Sindaquil Vabbè basta 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 Ok Ok Allora adesso Tieni ferma la mano così Però abbassa il braccio Però tienila davanti a te Questa C Tieni davanti a te Abbassa un po' il braccio Non lo farei vedere Buttalo giù così Adesso Altra mano davanti a te La metti davanti a te così E abbiamo una C rovesciata Che cosa puoi rappresentare Sembra quasi una bocca no? Se ci pensi N.C Come prima Con l'altra mano E adesso vedrai la magia Tira sull'altro braccio Davanti a te Che avevi riposto Momentamente Bravissimo Mario Bravissimo Incolonna di davanti a te Bene Incolonna bene In colonna Che vuol dire Incolonna In colonna No Devi mettili Mettili uno di fronte all'altro Incolonna Lì bene Bravissimo E adesso Mario Ispira E' un pompino questo Stai facendo fare un bocchino A due mani Si o no bro? Stiamo meditando Stiamo meditando noi Sempre Abbiamo sempre meditato Ma non ce ne siamo mai accorti Questo è bello No no Ma che non ci siamo mai accorti Abbiamo Siamo partiti dicendo Iniziamo a meditare Hai sempre meditato Solo che non te ne sei mai accorto Mario Mai Dovevi Te sei sempre stato lì Sei sempre stato Dalla parte di te stesso Ma ci vuole questa musica Ci vuole questo Questa vettorializzazione Questa concentrazione Per capire Qual è il tuo posto nel mondo Ma Io non ho capito un cazzo però Non sto Sto come prima Vuoi vedere Vuoi scoprire Guarda Chiudi gli occhi Adesso non sei a Milano Anzi non sei a San Donato Milanese Nel tuo appartamento Di merda Ma Stai andando Stai facendo Ah Stai facendo il mio pensiero Stai facendo un passo indietro Anzi Ben più di un passo indietro Sei a Messina A Messina La tua città Una città Fatta di luci E ombre Molto nette Qual è la prima cosa Che vedi davanti a te Il paninaro Il paninaro Che cosa ricordi Quel paninaro La maionese Artigianale Perché Cosa ti ricorda Quel sapore Il 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 mio panino preferito Qual è il tuo panino preferito Mario Il panino Con le braciole Messinesi Le patatine E la maionese Bravo Mario Vorresti tornare a quel momento Per un attimo Sì Bene Concentrati Allora Concediamoci Un minuto Di silenzio Pensando a questo panino Pensando a questo tuo Momento D'infanzia Che è molto importante Ovviamente Per tu Bene Rilassati Sempre Pensa Lleviamo anche il video Tanto non è più importante Perfetto Rilassati Discrivimelo un po' Questo panino La maionese Discrivimelo bene Discrivimi anzi Il momento Cos'è che ti ricorda Mi ricordo Che Dopo che era finito Lo rimettevano nella piastra Per piastrarlo E schiacciare Gli ingredienti All'interno Per renderlo Un panino Piastrato Bene Respira Ci sei C'era questo Enorme Recipiente Di maionese Artigianale Che Pigiava E ne usciva In quantità E quando ero piccolo Pensavo che non finisse mai Che ero sempre lo stesso Bene Respiriamo Concentrati bene Su questo ricordo Silenzio Non devi pensare a niente Che è molto importante Molto importante Bravissimo Mario Puoi aprire gli occhi Bravo Mario Sei stato molto bravo Complimenti Perché la gente ride? Eh? Perché la gente ride? No non lo so Sei stato molto bravo Non so Forse perché Si sono emedesimati in te Hai provato a far partire lo sniff E non è riuscito? Assolutamente no Hai provato a riscattare lo sniff? No 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 Assolutamente Non sento di essere migliore Non sento di aver Riacquistato il sapore del panino Sento di aver perso Veramente un sacco di tempo I moderatori di Twitch Sì devono dare una calmata A qualsiasi cosa Che scrivi bannato Vediamo subito Gabbo Ali Cosa avevi scritto Io sono qua a disposizione Ah abbiamo finito Ok Adesso parliamo dei messaggi di Gabbo Ragazzi Vediamo che cosa ha combinato Non sei stato mai sospeso Gabbo Mai Allora hai un altro account Con l'illusione di ban Mario è vettoriale Grazie a tutti Grazie Roberto Grazie iscrivi Ustracurinio Non dire così Ora sei migliore Ma va bene Mi spieghi Mi spieghi il motivo Per il quale sei arrivato Un attimo prima In questa In questa live Che di solito Noi ci vediamo dopo Non c'era Cinema cult Non c'era Perché Non c'era frusciante Bisognava fare il cinema cult Su Jurassic Park Dove volevamo farlo scatenare Ma non c'era Ok Non ti andrebbe Di dirmi Quando Tipo Devi venire prima Che vieni prima Così mi organizzo Anche io Mario guarda Sono sincero Ti ho visto veramente Stressato In questo periodo Ho detto Gli faccio un bel regalo Gli faccio una Una bella sessione di Meditazione Perché no Eh ok Però dico Sei semplicemente arrivato Trenta minuti prima Di una cosa che dobbiamo fare In live Su Twitch Quindi non è Un grande regalo Ok Sono stressato Ultimamente Però nemmeno troppo Ti ringrazio per l'interesse Detto questo La meditazione Non mi ha Non mi ha coinvolto In niente Non mi sento Non mi sento meglio Vuoi fare dello yoga Che cazzo c'è da ridere? No Quello che ti chiedo Cioè c'è anche quello Polenda Lo yoga Io sono espertissimo Tu al massimo Bro Sei esperto Delle cose Che sono dietro di te Non Non sei un esperto Di yoga Hai altre competenze Tu nella vita Prossima volta Chiamiamo un monaco Per meditazione seria Non lo trova Il monaco Per la meditazione seria E poi soprattutto Un monaco Che fa la meditazione seria Non pensi che Dario Vorrebbe rovinare Il momento sacrale Sparando un pe forza Da qualche parte Ragazzi Se c'è qualcuno Che insegna Meditazione Neoyoga Mi iscriva Vedetelo lontano Da questi canali No Vedetemi su Instagram Per favore Che ovviamente Chi non lo è Verrà istantaneamente Bloccato dal mio profilo Instagram Però ecco E fategli sapere Che poi va pubblicato Su YouTube Nel caso in cui Volesse straicare No No Vabbè Sì Scusate Grazie